Amici fantallenatori bentornati da Carmi Special, siamo con la guida all'asta fantacalcio 2024-2025 oggi parliamo di una delle tre neopromosse, il Parma di Pecchia spero siate entusiasti di questa serie sull'analisi tattica anche perché molti mi dicono ma non è un po' presto no per l'analisi tattica no perché andiamo a parlare di ruoli che possono essere sollecitati offensivamente che possono far bene, non di nomi specifici poi chiaro che al momento la rosa è impostata in un determinato modo quindi possiamo citare determinati giocatori soprattutto quelli chiave per questo tipo di gioco poi il calciomercato può modificare qualcosina ma non può stravolgere la tattica poi ovviamente ditemi nei commenti sempre la vostra opinione poi più avanti già dalla prossima settimana inizieremo a inoltrarci proprio sulle schede giocatori diciamo specifiche andiamo a vedere appunto il Parma ovviamente iscrivetevi se non siete ancora iscritti ragazzi mi raccomando e seguitemi sui social poi se non avete ancora testato Fantalab ragazzi io vi lascio il link in descrizione ok così poi avete anche per il primo anno il codice sconto incluso altrimenti il codice è CARMI ok con la Y quindi potete testarla, spulciatela, utilizzatela poi ovviamente durante l'asta e poi le mie fasce per chi me lo chiede spesso usciranno nei primi di agosto subito dopo il listone quindi probabilmente giorno 1 andiamo a vedere questo Parmano che dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 è stata costruita così la squadra ha dei giocatori chiave per questo tipo di modulo in primis la stella lì al centro ovvero Bernabè ok diciamo un giocatore molto talentuoso dotato tecnicamente e anche con una buona visione di gioco dei piedi buoni un buon tiro da fuori insomma è il giocatore leader poi ne parleremo faremo la sua scheda tecnica chiaramente nel vi consiglio al fondacalcio a livello tattico lui però attenzione che non è solo il classico trequartista che si va magari ad inserire è più un giocatore che gioca molto sia in rifinitura quindi con dei diciamo passaggi che poi deve andare a fare magari alla punta o agli esterni ma talvolta sia anche a bassa perché ha un buon con la sua visione di gioco anche un buon lancio quindi può poi mettere i compagni con dei ottimi passaggi chiave in condizione poi di fermare agli avversari quindi grazie appunto come detto a visione di gioco si ha anche un buon controllo del pallone e anche un buon lancio sia a palla aperta che chiusa perché non lo sapesse dipende un po' dall'avversario se ti affronta ok ti viene incontro diciamo o meno può essere ritenuto appunto palla aperta o palla chiusa comunque quindi questo per quanto riguarda la zona di trequarti abbiamo un trequartista leader diciamo del gioco del Parma ma attenzione che ha anche un'ip addosso importante poi gli esterni gli esterni sono protagonisti non a caso sia Ben Gizek che Mann sono in doppia cifra ma anche Mihaila giocatore altro da bonus sono tutti e tre molto interessanti come profili ma dovrebbero essere listati attaccanti al momento vedete un Ben Gizek con il ruolo di centrocampista poi vedremo quale sarà quello ufficiale da calcio quindi giocatori molto interessanti ma più utili forse come i giolli ok come per certi versi un po' in alcuni casi il Sule dell'anno scorso anche se è Sule dobbiamo anche un po' ipotizzare un rendimento magari un po' più spalmato perché ha fatto molto bene all'inizio e poi si è fermato ok oppure un Lubumbo mi viene in mente Lubumbo è stato il classico Jolly l'anno scorso ok quindi aspettatevi da questi giocatori un rendimento di quel tipo Bonny parliamo di della punta è un'attaccante che gioca molto bene con i compagni ma si allarga parecchio se io vi vado a prendere ad esempio la hit map di Bonny parliamo comunque di analisi tattica se vedete è vuota al centro dell'area di rigore ma è molto più rossa all'esterno proprio perché è più un attaccante di dialogo non a caso ha fatto più assist che gol 7 assist e 5 gol quindi occhio a questo aspetto perché magari possiamo aspettarci una buona media voto ok un buon rendimento anche una discreta vanda media ma la vanda media esplosiva diciamo è meno probabile poi magari fare la super stagione alla zircze ok perché lo stile può essere quello però attenzione che non è così scontato che abbia una fanta media altissima ok proprio perché per quella servono anche poi tanti più 3 va bene attenzione poi in mediana chiaramente cercheranno di fare filtro davanti alla difesa ci sono gli armani che tra l'altro in passato l'abbiamo già conosciuto al fanta calcio anche con edili dal dischetto per quanto riguarda la fase difensiva i due terzini sono molto interessanti sia del prato giocatore molto discusso perché ha fatto una buona stagione l'anno scorso l'unica cosa ragazzi sia lui che Valeri hanno un problemino ragazzi sono le ammunizioni lui ne ha prese 5 la scorsa stagione non è super tragica la cosa ok non sono tantissime però insomma potrebbero essere messi un po' in difficoltà su quell'aspetto però entrambi dovrebbero comunque portare dei bonus anche Valeri l'anno scorso comunque in 15 partite 3 munizioni quindi anche lui c'è un po' quel vizietto lì però è uno che calcia tantissimo anche con passaggi chiave tiri a partita se non sbaglio per tiri a partita è tipo 3 primissimi terzo infatti tra tutti i difensori quindi insomma hanno dei terzini offensivi che potrebbero portare bonus ma anche qualche insufficienza con i cartellini a livello di centrali e portiere sono sincero non mi aspetto un rendimento clamoroso come una squadra super difensiva però ben accoppiata quindi utilizzandola magari nelle partite facili potrebbero avere un descritto rendimento a quel punto sia i centrali che il portiere è arrivato appunto adesso Suzuki giovane giapponese vedremo se appunto si prenderà il posto a titolare probabilmente vista la spesa fatta su di lui è molto probabile ok però valutiamo anche in base al precampionato per questo aspetto morale della favola ragazzi per quanto riguarda questo Parma è chiaro che abbiamo dei trequartisti diciamo delle ali più che altro molto interessanti ma che probabilmente saranno come detto attaccanti al classic al mantra per chi fa il mantra possono essere degli ottimi acquisti perché alcuni di questi magari avranno una W A alcuni magari avranno anche la sola A ma lo sapete io amo il 343 e loro ci rientrano perfetti per quel tipo di modulo anche come alternativa ma anche per il 4231 possono essere interessanti insomma per i moduli che utilizzano le W e le A per quanto riguarda Bernabè c'è da capire se avrà la C dovrebbe avere avrà sicuramente la T ma non non sono convintissimo possa avere la C vedremo vedremo perché quella può essere d'impatto come trequartista insomma avrebbe un determinato valore come C potrebbe essere uno dei più quei ma ne parleremo nella sua fantascheda del bigosì al fantacalcio proprio perché ci sarà poi il focus su di lui e anche su i giocatori più interessanti ovviamente da prendere per il Parma voglio sapere però la vostra qua sotto nei commenti chi vi ispira di più chi vi sembra magari più una trappola una esca magari da poter utilizzare all'asta ok quindi vi aspetto nei commenti con il vostro commento detto ciò io vi rimando poi ovviamente a domani con l'analisi domani ci sarà il Venezia di Di Francesco e attenzione che anche lì ci sarà un po' di roba da andare a pescare e alcuni dettami tattici da discutere va bene ci vediamo come detto domani e anche sui social seguitemi sui social perché appunto pubblico anche dei contenuti brevi ma diciamo ricchi ok da poter soffrire ovviamente usate anche il Pantala link in descrizione spulciatela e occhio alle novità che ci sono già state rilasciate e a quelle che poi saranno in arrivo buono studio a tutti ciao